benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti l'obiettivo è quello di capire come funzionano le classi astratte in java e che cosa sono le classi astratte sono un sottinsieme delle classi che si possono usare in particolari condizioni capita a volte di avere delle superclassi che hanno alcuni metodi il cui comportamento è pensato per essere ridefinito nelle sottoclassi a questo punto non è sempre ovvio il tipo di comportamento che dovrebbe avere la superclasse perché probabilmente non sarà mai istanziata verranno soltanto istanziate le sottoclasse le classi astratte permettono esattamente di andare a risolvere questo tipo di problemi prendiamo ad esempio una classe che si chiama shape che vuole rappresentare le forme geometri che vogliamo poter disegnare sullo schermo una classe di questo tipo avrà probabilmente alcuni attributi ad esempio il colore un metodo per impostarlo che sono comuni a tutte le forme geometriche poi ogni forma geometrica va alle proprie caratteristiche specifiche noi possiamo pensare di definire un metodo draw all'interno della classe shape che permetta di andare a disegnare la forma geometrica sfruttiamo il polimorfismo quindi possiamo avere una collezione di forme che in realtà saranno triangoli cerchi quadrati e quant'altro e andando a fare un'iterazione su ciascuno di essi possiamo chiamare il loro metodo draw che sarà ridefinito in ciascuna delle classi quindi ogni classe farà un override del metodo draw con le peculiarità di quella particolare forma geometrica ora se noi utilizziamo il meccanismo delle classi astratte dentro la classe shape non mettiamo nessun corpo per il metodo draw perché perché è difficile andare a definire come disegnare una forma astratta sicuramente è meglio andare a evitare di mettere qualunque cosa piuttosto che andare a scrivere un messaggio d'errore del tipo purtroppo non è stata implementata il metodo disegno per questa forma che dovrei comunque mettere se fornissi un metodo invece andando dichiarare abstract il metodo in questione non ho la necessità di mettere un corpo un'implementazione per questo metodo e soprattutto vado a obbligare le classi che estendono la classe shape a fornire un implementazione per questo metodo in generale la regola che quando metto un metodo astratto ne basta anche solo uno devo anche dichiarare astratta tutta la classe cosa significa che questa classe non potrà essere istanziata direttamente non potrà essere istanziata direttamente perché se io per ipotesi potessi creare un oggetto con questa classe di questa classe non avrei nessun modo di andare a creare quello che è l'esecuzione di un metodo draw quindi il metodo draw non può essere chiamato perché non è implementato nelle classi derivate ad esempio circle che estendono il shape avrò un metodo draw che è specifico per il cerchio e che quindi andrà a fare operazioni di disegno ripeto non posso andare a istanziare shape perché è astratta ed è astratta in quanto ha un metodo astratto mentre invece ovviamente posso andare a istanziare circle perché estende quella classe e definisce il metodo draw che invece era lasciato in sospeso nella classe di base il modificatore abstract viene utilizzato per andare a evidenziare che un particolare metodo non è definito e quindi si richiede la sua definizione all'interno delle sottoclassi il modificatore deve essere anche applicato alla classe che abbia almeno un metodo astratto in questo caso quando io ho un metodo dichiarato astratto non vado a mettere nessuna implementazione ma metto semplicemente un punto vivra andando a indicare che sostanzialmente non voglio dare una definizione quella di la definizione di quel metodo sarà un compito delle sottoclassi quando una classe estende una classe astratta è obbligata a implementare fare un override del metodo o dei metodi astratti presenti nella classe di base se non lo fa cioè non implementa tutti i metodi astratti della classe di base allora deve essere dichiarata astratta essa stessa vediamo un esempio di come possiamo utilizzare questo meccanismo immaginiamo di voler andare a creare una classe sorter che ha un metodo di ordinamento generico andiamo a osservare come è fatto questo metodo il metodo di ordinamento sort sostanzialmente riceve un array di oggetti sfruttiamo la capacità di utilizzare object come riferimento universale e quindi possiamo tranquillamente passare a questo metodo qualunque array un array di qualunque tipo poi qui c'è l'implementazione di un algoritmo di ordinamento che tutte le volte in cui il confronto tra l'elemento j e l'elemento j più 1 dell'array mi dice che j è maggiore l'elemento j maggiore dell'elemento j più 1 allora effettua uno scambio quindi memorizza l'elemento j dentro un riferimento temporaneo copia j più 1 in j e poi mette in j più 1 il valore temporaneo è ovvio che questo algoritmo è assolutamente generico e può funzionare con qualunque oggetto string interi quello che volete il trucco qua è sostanzialmente nell'aver messo questo metodo compare che è in grado di confrontare due diversi elementi restituendo un valore maggiore di 0 se il primo è maggiore del secondo minore di 0 se viceversa è uguale a 0 se sono uguali a questo punto il trucco sta nell'andare a definire il metodo compare quindi come lo definisco compare è ovvio che in questa classe che è assolutamente generica io non ho modo di andarlo a definire l'unico modo che posso immaginare è andare a mettere un messaggio d'errore e andare a restituire un valore che è 0 ma perché non 42 qualunque altro numero per cui quello che possiamo fare invece di andare a mettere un implementazione fittizia con un messaggio d'errore è quello di andare a dichiarare questo metodo compare come abstract e quindi dichiarare la classe stessa come astratta a questo punto le sottoclassi andranno a definire il metodo compare per alcuni tipi specifici di oggetti ad esempio per andare a confrontare delle stringhe andremo a definire un metodo compare fatto in questo modo quindi io definisco una classe string sorter che è una classe che è pensata per andare a fornire un metodo sort che ordini delle stringhe che estende sorter quindi avrà un metodo sort che non mettiamo qua perché è ereditato ma ridefinisce il metodo compare che prende due oggetti a e b fa un downcast e poi fa un'operazione di sa.compare2sb quindi confronta la prima stringa con la seconda utilizzando un metodo che si chiama compare2 che è già predefinito all'interno delle stringhe. A questo punto qual è il trucchetto? Noi abbiamo definito una classe di base con un algoritmo generico di ordinamento l'algoritmo che abbiamo utilizzato è un bubble sort ma io posso cambiarlo tranquillamente mettere un algoritmo più efficiente e vado a definire un certo numero di sottoclassi che permettono di andare a fare un confronto tra stringhe in questo esempio ma potrei utilizzare interi, potrei utilizzare impiegati, non importa, andrò a definire una serie di personalizzazioni di questa classe che sfrutta il metodo sort e semplicemente deve andare a definire il metodo compare specifico per un certo tipo di classe. Per cui a questo punto io posso andare a creare un oggetto string sort a cui passo un array di stringhe che poi posso ordinare questo tipo di organizzazione è estremamente generale noi abbiamo una classe sort nel nostro caso specifico che ha un metodo generico che implementa un algoritmo di ordinamento ma potrebbe essere un algoritmo di qualunque tipo e questo algoritmo sfrutta alcune operazioni di base che però non sono definite perché? Perché devono essere specializzate in funzione di diversi fattori. A questo punto io posso definire una o più classi che estendono la classe di base e semplicemente vanno a definire una possibile variante delle operazioni elementari. Questo tipo di struttura è una struttura molto generale ed è sostanzialmente chiamato un pattern. Un pattern è sostanzialmente una soluzione comprovata per un problema che è ricorrente. In particolare il pattern che abbiamo in questo caso si chiama template method. A quale problema risponde questo pattern? Sostanzialmente ci troviamo in un contesto in cui abbiamo un algoritmo che ha un comportamento stabile ma ha alcuni dettagli che devono essere specializzati ad esempio in funzione del tipo di elementi oppure di varianti dell'algoritmo. Il problema è che cosa devo fare? Se io dovessi fare l'ordinamento di interi stringhe e tutte le classi che vogliamo dovrei andare a scrivere tanti metodi in cui invece di andare a scrivere un array di stringhe vado a scrivere un array di interi, un array di impiegati eccetera. E quindi dovrei sostanzialmente avere tante copie dello stesso algoritmo in cui vado a modificare soltanto quelle poche righe che fanno il confronto nel caso del nostro ordinamento. Qual è la soluzione? La soluzione è quella che abbiamo già visto. cioè vado a definire il metodo generale dentro quello che si chiama il template method e vado a definire una serie di operazioni primitive come metodi astratti che verranno poi dettagliati nelle sottoclassi di questa classe astratta. Quindi questo è un meccanismo generale che sfrutta lo strumento dei metodi delle classi astratte per andare a definire delle personalizzazioni. attenzione, io posso andare a utilizzare un template method, quindi questo pattern, questa soluzione tipica anche in assenza di metodi astratti. Qual è il vantaggio di utilizzare i metodi astratti? Sostanzialmente che chi va a definire una sottoclasse, quindi una classe concreta che estende la classe di base astratta è obbligato, se questa è dichiarata come astratta, a fornire l'implementazione della o delle operazioni primitive. In assenza della notazione abstract, questo obbligo non ci sarebbe, quindi non sarebbe un obbligo forte e garantito dal compilatore e dal linguaggio, ma sarebbe un qualcosa che è una pura convenzione, che posso andare a leggere nella documentazione, ma che potrei anche, in linea di principio, disattendere. Mentre invece, utilizzando abstract, io ho un vincolo molto più forte che viene garantito e messo in atto dal compilatore quando vado a definire le sottoclasse. Altro esempio di uso delle classi astratte. Immaginiamo di voler andare a rappresentare delle espressioni aritmetiche. Una struttura che possiamo utilizzare per andare a rappresentare le espressioni aritmetiche è quella di un albero. Per andare a costruire un albero posso utilizzare questo tipo di struttura, ovvero una classe di base che rappresenta il nodo specifico dell'albero e due o più sottoclassi che rappresentano il nodo terminale piuttosto che gli elementi intermedi. Tanto per interdecimeglio vediamo cosa vuol dire in termini di esempio. Se io ho l'espressione 6 per 4 più 3, la posso rappresentare come questa struttura ad albero. Quindi ho un'operazione che è un prodotto, che ha due operandi, un valore 6 e il risultato di un'altra operazione più che a sua volta si applica su due operandi il valore 4 e il valore 3. Quindi quello che io posso andare a costruire è un albero di questo tipo. A questo punto per andare a calcolare l'operazione, per andare a calcolare il risultato di tutta questa espressione posso chiedere all'elemento, l'operazione che sta più in alto, di effettuare il prodotto tra l'operando di sinistra, che è un valore 6, e l'operando di destra. L'operando di destra a sua volta cosa farà? Per calcolare il proprio valore andrà a prendere l'operando di sinistra e l'operando di destra, farà la somma e lo restituirà. E a questo punto l'operazione che sta più in alto andrà a fare il prodotto tra quello che è l'operando di sinistra e l'operando di destra. Come posso costruire questa struttura? Posso andare a costruire un'operazione prodotto tra due operandi, l'operando di sinistra che è un valore 6 e l'operando di destra che ha a sua volta un'operazione. Operazione che è una somma tra un'operando di sinistra che è un valore 4 e un'operando di destra che è un valore 3. Quindi queste operazioni di new sostanzialmente mi creano questo tipo di struttura d'albero, andando a sfruttare queste due classi, operazione e valore. Qual è il punto chiave in questa organizzazione? E' che quando io ho un'operazione, i due operandi possono essere un'operazione a sua volta oppure un semplice valore. Come faccio a trattare questi due casi? Li potrei trattare in maniera completamente separata oppure con questo tipo di struttura, dicendo che sia valore che operazione sono delle espressioni, posso andare a utilizzare delle espressioni che quindi possono declinarsi in semplici valori oppure in operazioni. A questo punto l'elemento generale della nostra rappresentazione delle espressioni aritmetiche è questa classe espressione, che può essere o un valore o un'operazione. L'operazione poi a sua volta avrà due operandi, quello di sinistra e quello di destra, che sono a loro volta delle espressioni. Avere questo tipo di legame vuol dire che l'operando di sinistra è un'espressione, quindi in pratica concretamente può essere un oggetto di tipo espressione, se non fosse astratto, un oggetto di tipo value oppure un altro oggetto di tipo operazione. Quindi questo tipo di meccanismo mi permette di andare a costruire una struttura ad albero che posso ramificare quanto voglio. Per fare questo io vado a definire una classe espressione astratta che ha due metodi astratti, eval e formula. Il primo restituisce la valutazione numerica dell'espressione, il secondo restituisce la formula simbolica della stessa espressione. La classe value, che estende expression, sostanzialmente è un attributo value che è quello che viene restituito quando deve essere valutata. Quindi il valore di un semplice valore è il valore stesso. La formula semplicemente restituisce la rappresentazione stringa dello stesso numero. Un po' più complicata è la classe operation, che estende expression, che ha due riferimenti left e right ai due operandi e un carattere che rappresenta il tipo di operazione. La valutazione sostanzialmente fa uno switch su quella che è l'espressione, su quello che è l'operazione che vogliamo eseguire e se è un più restituirà la somma della valutazione dell'operando di sinistra più l'operando di destra, se è un prodotto restituirà il prodotto, eccetera. La formula sostanzialmente restituisce una stringa che è data dalla concatenazione della parentesi aperta, l'operando di sinistra, l'operatore, l'operando di destra e chiusa tonda. In questo modo io ho la possibilità di andare a gestire sostanzialmente tutti gli oggetti come delle espressioni, tranne nel momento in cui li vado a creare e quindi vado a creare specificatamente un valore oppure un'operazione più complicata. Questo è un esempio di un altro tipo di pattern, ovvero soluzione comprovata a un problema ricorrente. Qual è il contesto in cui ci troviamo? Siamo nella necessità di dover rappresentare delle gerarchie di tipo parte tutto, dove abbiamo un'espressione che è composta da delle sottoespressioni. Il problema è che normalmente chi utilizza questi oggetti vorrebbe avere la possibilità di utilizzare una interfaccia unica, quindi io non vorrei dover utilizzare metodi o strumenti diversi per andare a calcolare il risultato di un prodotto rispetto a una somma o a un semplice valore. E ci sono delle differenze, tuttavia ci sono delle differenze strutturali evidenti, quindi il nostro valore è una classe molto molto semplice, mentre invece l'operazione è un po' più complicata perché ha ancora due operandi al di sotto. Quindi la struttura che di solito viene utilizzata è questa, che strutturalmente è simile a quella che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo un componente che normalmente è una classe di tipo astratto, che avrà alcune operazioni standard che vengono poi ridefinite dalle sottoclassi. Le sottoclassi ricadono in due principali categorie, quelle che si chiamano delle foglie perché sono terminali, quindi nel nostro albero non hanno degli elementi che stanno sotto di loro, quindi nel caso delle espressioni è rappresentato dal valore, e quelle che sono invece delle classi composite, ovvero delle classi che hanno sotto di loro degli altri componenti. E questo è il caso specifico dell'operazione che abbiamo visto prima. Ovviamente qui ce ne sono indicate due, ma io posso avere tante classi specifiche di tipo foglia e tante classi specifiche di tipo composito. Quindi in generale quando io devo andare a rappresentare delle strutture di questo tipo, quindi delle gerarchie, la risposta è normalmente andare a utilizzare questo tipo di struttura. Abbiamo visto quindi che possiamo andare a utilizzare il concetto di classe astratta per andare a permettere al compilatore di controllare che alcune classi vengano ereditate nel modo corretto e che venga ridefinito un sotto insieme dei metodi, quelli che sono dichiarati come astratti, garantendo che quello che è l'organizzazione prevista per andare a ereditare una classe di base venga poi rispettata da chi effettivamente scrive queste classi derivate. Abbiamo visto come questo tipo di organizzazione in cui io definisco una classe base con alcune caratteristiche essenziali e poi vado a definire delle sottoclassi che sono molto più specialistiche ma che comunque sfruttano la struttura generale della classe di base si sposa bene con questo tipo di meccanismo delle classi astratte. Abbiamo visto in particolare due pattern che sono delle soluzioni generiche a problemi che sono ricorrenti che sono il pattern composite che è quest'ultimo che abbiamo menzionato e l'altro è il template method che abbiamo visto nel caso della classe sorter. Presenterò sostanzialmente una serie di casistiche in cui l'utilizzo delle interfacce e delle ereditarietà qui in generale in Java possono essere utili per risolvere determinati problemi. Quali sono i principali modi di utilizzare le interfacce in Java? Allora, un modo molto ovvio e semplice è quello di definire quella che è un'interfaccia comune dove in questo caso l'interfaccia è intesa nel senso più generico del termine. Quindi io posso definire un'interfaccia comune e poi fornire tante implementazioni alternative. Un'altra modalità è quella di fornire quello che è un comportamento comune. Io ho, ad esempio, un algoritmo che ha bisogno di utilizzare alcuni comportamenti degli oggetti su cui opera. Ecco, l'interfaccia è un modo molto comodo e largamente utilizzato in Java per andare a definire quei metodi e quindi dare la possibilità all'algoritmo di utilizzare i metodi e agli oggetti utilizzati dentro l'algoritmo di implementarli. Un'altra modalità è quella che io chiamo parametrizzazione comportamentale ovvero quello di andare a mettere dentro un particolare oggetto non dei dati ma esclusivamente uno o più metodi che poi potranno essere utilizzati più in generale da un algoritmo. Abbiamo poi un utilizzo molto più generale che è quello di andare a separare gli elementi di una struttura complessa che vogliono comunicare tra di loro lasciandoli indipendenti di variare e di essere sostituiti con altre varianti. E poi c'è un utilizzo molto particolare che è fatto in Java che è quello di utilizzare delle interfacce che permettono di flegare le classi iniziamo da quello che è l'utilizzo più comune e più semplice ovvero andare a definire un'interfaccia per tante implementazioni alternative. Cercherò di presentare questi diversi modi di utilizzare le interfacce sotto forma di pattern semplificati ma giusto per darvi un modo di capire qual è il problema che cerchiamo di risolvere. Il contesto in cui si situa l'uso di implementazioni alternative è il seguente abbiamo sostanzialmente un modulo che può avere diverse implementazioni ad esempio per il modo di memorizzare i dati per il modo di elaborarli il punto è che io vorrei poter utilizzare diverse implementazioni in maniera più o meno intercambiabile. La soluzione è quella di andare a definire un'interfaccia che fornisce tutti i metodi che devono essere forniti da questo modulo e poi permettere a più classi di implementare questa interfaccia e quindi andare a fornire le diverse implementazioni della stessa interfaccia dello stesso modulo. Esempio molto semplice immaginiamo di dover andare a memorizzare dei numeri complessi io posso definire un'interfaccia complex che ha quattro metodi che ci permettono di andare a recuperare la parte reale, la parte immaginaria il modulo o l'argomento. Ovviamente sappiamo benissimo che un numero complesso può essere memorizzato come coppia di coordinate in un piano cartesiano quindi coordinate rettangolari oppure come una coppia di coordinate polari. Quindi data questa interfaccia io posso avere ad esempio l'implementazione che utilizza le coordinate rettangolari. In questo caso avrò un costruttore che prende le due componenti la parte reale e la parte immaginaria li memorizzo negli due attributi e poi avrò banali implementazioni per i metodi real e im che mi dà la parte immaginaria e un pochettino più complicate per l'argomento e il modulo. In maniera del tutto analoga posso andare a definire un'altra implementazione che usa le coordinate polari e quindi posso andare a utilizzare queste due varianti quindi la classe complex rett e la classe complex polar attraverso un'interfaccia che è complex a cui io posso andare a fare delle richieste che corrispondono a uno o qualunque dei metodi definiti in l'interfaccia. Come poi venga declinata questa richiesta dipende dalla classe che implementa effettivamente l'oggetto a cui stiamo facendo la richiesta. All'interno di implementazioni alternative io posso andare a sfruttare la possibilità di definire dei metodi che siano statici per andare a fornire una serie di funzionalità aggiuntive. Visto che il punto di partenza è l'interfaccia e a fronte di questa interfaccia posso avere tante altre classi io potrei utilizzare questa interfaccia ad esempio per andare a definire alcuni metodi di tipo factory cioè che creano degli oggetti e che mi permettono di andare a creare gli oggetti specifici senza dover andare a recuperare le singole classi. Ad esempio dentro l'interfaccia complex potrei aggiungere questi due metodi fromRect e fromPolar che sostanzialmente prendono una coppia di coordinate rettangolari e mi costruiscono l'oggetto che le implementa oppure prendono le coordinate polari e mi costruiscono l'oggetto che le usa. A questo punto l'interfaccia complex è un po' la facciata di tutto il sistema di rappresentazione di numeri complessi e posso andare a utilizzare questi due metodi per andare a creare gli oggetti specifici. Perciò l'esempio che abbiamo visto prima di uso delle due classi specifiche potrebbe essere trasformato in quest'altro in cui vado a usare complex.fromRect e complex.fromPolar che mi permettono di creare due tipi di oggetti che poi comunque visto che implementano la stessa interfaccia possono essere usati tranquillamente in maniera assolutamente intercambiabile. Sempre nelle interfacce di questo tipo può avere spazio l'uso dei metodi di default metodi che possono andare a sfruttare altri metodi già definiti nell'interfaccia ma ovviamente non hanno accesso a quelli che sono invece gli attributi che sono comunque definiti nelle classi che implementano l'interfaccia. Ad esempio posso andare a definire un metodo di default isreal che semplicemente verifica che la parte immaginaria sia zero. Come vedete questo metodo non potendo usare gli attributi delle classi perché ovviamente questa è l'interfaccia fa un uso di quelli che sono i metodi normali già definiti all'interno dell'interfaccia. Quindi questo è il primo modo forse quello più intuitivo di andare a utilizzare le classi a usare le interfacce. Definisco un insieme di metodi che poi potranno essere implementati in diversi modi in diverse interfacce. Un secondo problema che possiamo andare a risolvere utilizzando le interfacce è quello di fornire un comportamento comune. Qual è il contesto in cui abbiamo questo tipo di problema? Normalmente può capitare di avere degli algoritmi che richiedono da parte dei dati su cui operano un certo tipo di comportamenti ad esempio che possono essere stampabili che possono essere confrontabili che forniscano ad esempio alcuni tipi di metodi getter. Le caratteristiche degli oggetti ovviamente dipendono dall'algoritmo che stiamo scrivendo. Il problema è che noi vorremmo andare a poter applicare lo stesso algoritmo a diversi tipi di dati senza doverlo riscrivere più volte per tutte le varianti. quindi la soluzione qual è? E' quella di andare a definire un'interfaccia in cui andiamo a mettere i metodi che l'algoritmo si aspetta siano implementati dagli oggetti su cui opera e poi fare in modo che le classi che darò in pasto a questo algoritmo implementino l'interfaccia. Vediamo un esempio pratico all'interno di quelle che sono le classi già predefinite nelle librerie standard Java. In particolare faccio riferimento alla classe Arrays che si trova dentro Java Utils Arrays l'abbiamo già visto in qualche esempio sostanzialmente è una classe che include tutta una serie di metodi di utilità che possono essere utilizzati per andare ad operare sugli Array In particolare adesso ci soffermiamo su uno dei metodi che è definito dentro Arrays che si chiama Sort Il metodo Sort che cosa fa? Sostanzialmente come vediamo in questo semplice esempio dato un Array se questo viene passato al metodo Sort il metodo Sort lo ordina Ora se gli elementi dell'Array sono degli interi è ovvio che l'ordinamento viene fatto andando a fare un'operazione di minore tra gli elementi tra le coppie di elementi che verranno trattati dall'algoritmo Un altro discorso possiamo farlo se invece gli oggetti dell'Array non sono degli interi ma sono degli oggetti Ecco in questo caso non avendo la possibilità di fare un'operazione di elemento i e elemento i più uno maggiore dobbiamo avere un modo di andare a confrontare degli elementi questo modo ci viene definito dalla interfaccia che si chiama comparable che è definita dentro il package java.lang l'interfaccia comparable è un'interfaccia molto molto semplice è un'interfaccia che ha un unico metodo che si chiama compareTo la semantica di questo metodo è quella che è abbastanza comune quando dobbiamo andare a confrontare due oggetti o due elementi sostanzialmente ci restituisce un valore minore di zero se questo oggetto precede l'altro un valore uguale a zero se questo oggetto e l'altro che viene passato come parametro sono sostanzialmente uguali quindi non c'è un ordine tra i due e un valore maggiore di zero se questo oggetto segue e più grande di quello che viene passato come parametro anche in questo caso vedete che il parametro del metodo compareTo è un object e quindi possiamo utilizzarlo in maniera molto generale piccola osservazione appena vedremo cosa sono i tipi generici vedremo che la dichiarazione di comparable è leggermente diversa e questo ci permette di scrivere del codice più semplice come possiamo andare a utilizzare comparable ecco questo è un esempio molto semplice immaginiamo di avere una classe student con un parametro un attributo id io posso andare a dire che la classe student implementa comparable e quindi deve definire questo metodo compareTo e che cosa fa? sostanzialmente quando gli viene passato un oggetto questo viene convertito in uno studente il riferimento viene convertito in uno studente non l'oggetto ricordiamoci come funzionano i cast e quindi posso andare semplicemente a restituire this.id meno adra.id quindi cosa succede? che sostanzialmente viene fatto un ordinamento in base all'id che è un intero per cui se questo intero è più piccolo dell'intero che è l'identificatore dell'altro studente allora restituisco un valore minore di 0 precede se i due identificatori sono uguali restituisco 0 se invece questo identificatore è maggiore dell'identificatore dell'altro studente restituisco un valore maggiore di 0 quindi sostanzialmente abbiamo quello che è il comportamento standard dei nostri oggetti e del metodo compare2 e quindi abbiamo la possibilità di fare un confronto un altro esempio di comportamento comune che noi ci aspettiamo all'interno di un algoritmo lo possiamo vedere con riferimento a una interfaccia che si chiama iterable iterable è un'interfaccia anch'essa molto semplice che restituisce un iterator cos'è questa interfaccia? è un'interfaccia che sostanzialmente dando accesso a un oggetto di tipo iterator permette di utilizzare un oggetto come contenitore all'interno di un costrutto foreach quindi io posso andare a iterare sugli elementi che sono contenuti all'interno di un qualunque oggetto che implementi l'interfaccia iterable a questo punto andiamo a vedere come è fatta l'interfaccia iterator che è quella legata ovviamente a iterable l'interfaccia iterator è leggermente più complessa ma semplicemente due metodi esnext è next il metodo esnext sostanzialmente mi dice se esiste un prossimo elemento su cui andare a iterare mentre invece il metodo next mi permette di avere il prossimo elemento su cui fare l'iterazione ecco come possiamo utilizzare un iteratore per fare un ciclo possiamo prendere un oggetto sequenza che implementi l'interfaccia iterable e quindi utilizzare il metodo iterator il metodo iterator ci restituisce un iteratore il quale ha un metodo esnext che noi possiamo utilizzare dentro un ciclo while per andare a iterare finché ci sono elementi ulteriori su cui effettivamente iterare all'interno del ciclo possiamo utilizzare il metodo next che ci restituisce il prossimo elemento e oltre a restituire il prossimo elemento avanza di una posizione quindi otteniamo il prossimo elemento lo mettiamo dentro una variabile poi ad esempio lo stampiamo questo tipo di ciclo che qui è scritto in maniera esplicita utilizzando il metodo iterator e i metodi next e next dell'oggetto iterator restituito può essere scritto utilizzando la sintassi for each in java utilizzando object element due punti sec quindi la variabile che voglio utilizzare per andare a puntare di volta in volta all'elemento successivo l'oggetto che implementa l'interfaccia iterable e a questo punto automaticamente il compilatore a fronte di questa scrittura che utilizza il for each andrà a generare del codice che è assolutamente analogo a quello che abbiamo scritto appena sopra come possiamo invece dall'altro punto di vista andare noi a costruire un oggetto che ci permetta di utilizzare queste due interfacce per andare a fornire la possibilità ai nostri clienti di iterare su degli elementi vediamo questo esempio relativamente semplice immaginiamo di voler definire una classe letters che permette di andare a iterare sulle lettere di una stringa che ovviamente implementa iterable abbiamo un attributo chars che è un array di caratteri su cui andiamo a iterare e poi abbiamo la nostra classe letters che può essere inizializzata attraverso una stringa e semplicemente andiamo a chiamare il metodo to char array che restituisce l'array di caratteri che sono presenti dentro la stringa a questo punto il metodo iterator restituisce una nuova istanza della classe li che è una classe interna definita dentro il nostro la nostra classe letters la classe li implementa iterator ovviamente e ha un attributo interno i che sostanzialmente mantiene la posizione in cui si trova l'iteratore il metodo esnext semplicemente va a restituire il confronto tra i e la lunghezza dei caratteri quindi ci sono ulteriori elementi se la posizione in cui io voglio andare a recuperare il prossimo non è oltre la fine dell'array il metodo next semplicemente restituisce il prossimo elemento e avanza di uno ovviamente visto che il metodo next deve restituire un object perché così è definito nell'interfaccia iterator vado a creare un oggetto della classe write per character a partire dal carattere che sto restituendo posso riscrivere questa stessa implementazione di letter utilizzando non una classe interna come li ma bensì utilizzando una classe interna anonima in questo modo quindi quando dentro il metodo iterator devo restituire un nuovo oggetto di tipo iterator semplicemente faccio return new iterator aperta chiusa tonda aperta graffa e chiusa graffa e qui vado a definire l'implementazione dell'interfaccia iterator che voglio restituire come vedete la notazione è un po' più complessa nel senso che è annidata ma in generale il codice è relativamente facile e leggibile e soprattutto non devo andare a inventarmi il nome di una classe li che implementi iterator dichiarata in questo modo la classe è anonima quindi non devo inventare un nome ma semplicemente vado a definire una classe che di fatto implementa l'interfaccia senza dare un nome specifico questo è molto comodo perché in pratica questa classe la classe li che ho definito qua la utilizzo in un unico caso all'interno di quella classe e specificatamente all'interno di un metodo tanto vale dichiarare quella classe in maniera anonima direttamente dentro il metodo in cui è utilizzata questo modo di andare a scandire gli elementi di fatto è stato codificato in uno dei pattern standard del libro della Gang of Four che si chiama il pattern iterator il problema è specifico che ho una collezione di oggetti su cui voglio iterare le due problematiche che sono che voglio avere la possibilità di avere più iteratori che mi permettono di andare a scandire gli elementi in maniera concorrente e indipendente e soprattutto voglio evitare di andare a rendere visibile all'esterno quello che è la memorizzazione interna degli oggetti io qui nella mia classe letters ho utilizzato un array di caratteri ma potrei utilizzare altre tecniche di memorizzazione la soluzione è quella di andare a fornire un oggetto iteratore che è attaccato alla collezione di elementi e che può essere utilizzato per andare a iterare in maniera indipendente da eventuali altri iteratori all'interno della mia collezione di oggetti la struttura è sostanzialmente questa abbiamo un client che vede semplicemente un interfaccia aggregato che in java si chiama iterable e un'interfaccia di tipo iteratore ovviamente avremo poi delle classi concrete che implementano l'interfaccia aggregata e delle classi concrete che implementeranno l'interfaccia iterator un altro dei problemi che possiamo andare a risolvere normalmente utilizzando delle interfacce è quella che possiamo chiamare la parametrizzazione comportamentale immaginiamo di avere un algoritmo generico in cui ho alcune operazioni che possono variare a differenza della modalità che abbiamo descritto prima del comportamento comune in cui sono gli oggetti utilizzati dall'algoritmo che dettano un po' le varianti qui immaginiamo di avere un algoritmo in cui le operazioni possono variare leggermente tra varianti dell'algoritmo ma sostanzialmente vengono utilizzate in maniera uguale su degli oggetti il problema è che ovviamente avendo tante varianti io rischio di dover avere molte implementazioni e soprattutto oppure in alternativa di avere dei costrutti condizionali per andare ad attivare una variante piuttosto che l'altra quindi sostanzialmente il risultato è un codice complesso la soluzione qual è? è quella di andare a mettere queste varianti di comportamento non dentro l'algoritmo ma dentro degli oggetti che vengono poi utilizzati dall'algoritmo a questo punto cosa faccio? ho un'interfaccia che definisce le operazioni varianti tra una implementazione e l'altra dell'algoritmo e posso andare a costruire delle classi e quindi degli oggetti che vanno a personalizzare queste operazioni esempio immaginiamo di avere un metodo process il nostro algoritmo che riceve un array di oggetti e vuole eseguire tante diverse operazioni su tutti gli oggetti quindi cosa facciamo? facciamo un ciclo e poi andiamo a fare un'operazione sull'oggetto che operazione facciamo? l'operazione è dettata da questo parametro C di tipo consumer che è sostanzialmente un'interfaccia funzionale ricordatevi che quando abbiamo parlato di interfacce funzionali l'interfaccia consumer è una di quelle interfacce definite dentro il package java utile function che accetta un oggetto come parametro e non restituisce nulla quindi quando io passo un oggetto C di tipo consumer posso tranquillamente chiamare il suo metodo accept e passargli l'oggetto quindi in funzione dell'oggetto che verrà passato a questo metodo process su tutti gli elementi dell'array v verrà eseguita l'operazione descritta in quell'oggetto per cui ad esempio se io ho una classe printer che implementa consumer e cosa fa prende l'oggetto e lo stampa posso andare a chiamare il mio algoritmo definito dentro il metodo process passandogli v che è l'array di elementi e poi un oggetto di classe printer il risultato è che questo andrà per ogni elemento dell'array a chiamare il metodo accept di questa printer che sostanzialmente stamperà l'elemento anche qui posso utilizzare una sintesi leggermente diversa sfruttando le classi interne anonime per cui ad esempio posso andare a dire processo printer uguale a new consumer e poi andare qui a definire l'implementazione usando una classe interna anonima ok questo oggetto che viene generato qua è quello che possiamo chiamare un oggetto comportamentale sono oggetti che sostanzialmente non hanno attributi ma hanno esclusivamente metodi quindi l'unico scopo di un oggetto comportamentale è quello di rappresentare un tipo di comportamento che potrà essere utilizzato all'interno di un algoritmo più ampio molto spesso succede che questi oggetti comportamentali abbiano un unico metodo quindi sostanzialmente implementino quelle che sono delle interfacce funzionali questo tipo di comportamento è sostanzialmente descritto da uno dei pattern del libro della Gang of Four e si chiama strategy il contesto in cui si applica questo pattern è quando abbiamo tante classi o algoritmi che hanno una parte stabile ma definiscono alcuni punti di variazione e la specifica operazione che voglio svolgere in questi punti di variazione può cambiare significativamente il problema è che io ho tante implementazioni differenti e che ovviamente dovrei utilizzare dei costrutti funzionali condizionali molto complessi quindi la soluzione abbiamo quella di andare a incapsulare la variazione all'interno degli oggetti strategia o i oggetti comportamentali come vi ho visto prima che possono cambiare di volta in volta e questa è la struttura tipica del pattern strategy in cui ho sostanzialmente la strategia che le operazioni che deve essere svolta all'interno di un contesto quindi il contesto è dove viene fatto l'algoritmo quando ho la necessità di andare a definire una variante di questa operazione la posso definire in un oggetto strategi concreto A oppure B e quindi ho tante diverse alternative un'altra applicazione pratica di questo pattern all'interno delle librerie standard java è data dall'interfaccia che si chiama comparetor l'interfaccia comparetor che vediamo qua sostanzialmente è un'interfaccia che permette di andare a confrontare due oggetti A e B tramite un metodo che si chiama compare che restituisce un intero l'intero che viene restituito sostanzialmente rispetta alla solita semantica dei valori minori di 0 uguali a 0 o maggiore di 0 esattamente come il metodo compare2 la differenza tra l'interfaccia comparetor e l'interfaccia compare scusate comparable è che comparetor è pensato per essere un oggetto a sé stante mentre invece l'interfaccia comparable è pensata per essere implementata dagli oggetti che vogliamo andare a confrontare per cui quello che possiamo fare ad esempio è andare a definire un array di studenti e andare a confrontarli utilizzando il metodo sort a cui passiamo un oggetto compareto vedete che qua ho utilizzato una classe anonima in cui vado a definire il metodo compare2 scusate il metodo compare che riceve due oggetti A e B di cui faccio il cast a student e su cui vado poi a utilizzare l'attributo id dei due oggetti che voglio andare a confrontare quindi in pratica con riferimento alla struttura del pattern strategy questo è un esempio da manuale dove abbiamo il mio metodo sort che fa riferimento all'interfaccia strategia compareto che posso andare a definire in più diverse varianti quali sono i vantaggi dell'utilizzare il pattern strategy sostanzialmente che non usiamo dei costrutti condizionali perché passiamo all'oggetto che varia in un caso possiamo utilizzare i diversi algoritmi in famiglie possiamo andare a scegliere diverse implementazioni e soprattutto la scelta su quale variante andare a utilizzare viene fatta a runtime perché io runtime posso scegliere un oggetto piuttosto che un altro gli svantaggi se volete che i client quindi quelli che utilizzano questo algoritmo devono conoscere quali sono le varianti andare a scegliere una e ovviamente ho un un po' più di overhead in termini di comunicazione perché invece di avere un'operazione svolta direttamente dentro il codice devo andare a chiedere a un oggetto di svolgere quell'operazione per conto mio perché di volta in volta quell'oggetto cambierà dandovi delle varianti diverse e quindi ho un numero complessivamente di oggetti coinvolti più elevato rispetto a un codice in cui ho dei costrutti condizionali un'altra tipologia di problema che io posso andare a risolvere utilizzando le interfacce è quello che si chiama il disaccoppiamento in termini di comunicazione mi capita spesso di avere all'interno di programmi complessi coppie di oggetti che comunicano tra di loro quindi ho qualcuno che manda un'informazione e qualcuno che la riceve più questi oggetti sono disaccoppiati più io posso andare a modificarli farli evolvere svilupparli in maniera indipendente dando sostanzialmente una maggiore flessibilità di sviluppo inoltre in termini di manutenzione io posso andare a modificare e correggere uno senza andare a influenzare l'altro un esempio tipico di disaccoppiamento di comunicazioni nelle librerie standard Java è quella della coppia observer observable che sono definiti nel package java.util in particolare observable è una classe e observer è un'interfaccia qual è il funzionamento di questi due elementi sostanzialmente la classe observable gestisce una lista di osservatori a cui mandare delle notifiche quando c'è una qualche variazione invece l'interfaccia observer sostanzialmente è l'interfaccia che verrà chiamata quindi l'interfaccia che dovrà essere implementata dalle classi a cui mandare queste notifiche in pratica la struttura è la seguente io ho un oggetto observable a cui posso aggiungere degli osservatori e a cui posso chiedere di notificare qualche evento agli osservatori questo oggetto questo oggetto andrà a notificare gli osservatori utilizzando un metodo che si chiama update che è definito in questa interfaccia avrò poi delle classi concrete di oggetti observable e delle classi concrete che implementano l'interfaccia observer in particolare se andiamo a considerare come funziona la classe observable possiamo osservare che si assume che per notificare un cambiamento io devo innanzitutto andare a dire che c'è stato un cambiamento per cui la classe observable sostanzialmente definisce un metodo che si chiama setChanged che può essere chiamato per andare a dire qualcosa è cambiato in questo oggetto dopodiché ho un altro metodo che si chiama notifyObserver che è quello che permette di andare effettivamente a notificare gli osservatori che c'è stata una variazione perché questi sono divisi perché è possibile che all'interno di un'operazione complessa io cambi tante cose e quindi vada a chiamare più volte il metodo setChanged e voglia fare un'unica notifica complessiva tramite il metodo notifyObserver questi sostanzialmente implementano quello che si chiama il patternObserver che è un altro dei pattern definito nel libro della gang of four il contesto in cui ci troviamo è quello in cui io ho un oggetto i cui cambiamenti voglio che siano notificati a uno o più altri oggetti collegati vorrei evitare di avere un altro accoppiamento quindi vorrei avere la necessità che chi notifica debba conoscere bene nel dettaglio come sono fatti gli oggetti a cui notificare e soprattutto voglio avere un'indipendenza in termini di quali e quanti sono gli oggetti a cui voglio notificare il numero ed identità specifica degli oggetti può variare a runtime e deve essere un qualcosa di flessibile la soluzione è quella che abbiamo visto prima con la coppia Observer Observable in cui abbiamo una classe base Subject che è quella che permette di gestire l'insieme la collezione di oggetti a cui notificare e che gestisce anche l'operazione di notifica e poi ho un'interfaccia Observer che è quella generica a cui verranno inviate le notifiche quindi non ho necessità di conoscere come sono fatti gli Observer a me basta sapere che hanno un metodo che si chiama Update o in un altro modo che vi permette di mandare queste notifiche in questo modo noi abbiamo sostanzialmente visto alcuni modi diversi di utilizzare l'ereditarietà per risolvere dei problemi standard un ultimo modo di utilizzare le interfacce è quello di utilizzare le interfacce come meccanismi di flagging ovvero abbiamo a che fare con un problema in cui abbiamo tante classi che possono essere utilizzate in maniera sostanzialmente intercambiabile e quindi ragionevolmente stanno in una gerarchia di ereditarietà quindi io ho una classe di base a cui posso fare riferimento e tante classi diverse ma vorrei avere un sotto insieme di queste che in alcuni specifici contesti debbano essere utilizzate diversamente io vorrei avere la possibilità di identificare queste classi a runtime e ovviamente vorrei evitare di aggiungere un flag specifico perché questo andrebbe a impattare tutte le classi da quella più generale a tutte quelle che le implementano la soluzione è quella di utilizzare quella che chiamiamo una flagging interface ovvero un'interfaccia che io posso implementare l'interfaccia può essere tranquillamente vuota e poi a runtime posso semplicemente andare a verificare tramite instance of se un particolare oggetto ha quella caratteristica esempio torniamo alle espressioni che avevamo visto parlando di interfacce alcune espressioni quando io devo stampare la formula testuale potrebbero richiedere delle parentesi attorno ad esempio le operazioni quando ho una somma voglio avere le parentesi attorno in modo da mantenere le priorità io posso andare a definire quella che è un'interfaccia composed che semplicemente mi serve per segnalare che le classi che implementano questa interfaccia quando devono essere stampate in termini di formula richiedono delle parentesi attorno quindi ad esempio la classe operation oltre a implementare l'interfaccia expression implementa l'interfaccia composed che abbiamo detto è vuota serve semplicemente come flag a questo punto quando devo andare a stampare una espressione dentro il metodo formula posso semplicemente andare a recuperare la formula dell'operando sinistro la formula dell'operando destro e poi se l'operando sinistro è un instance of composed allora metto una coppia di parentesi tonde stessa cosa sull'operando destro se è un instance of composed quindi l'oggetto è un'istanza di una classe che implementa l'interfaccia composed allora metto le parentesi attorno e poi restituisco il risultato un esempio di questa tecnica di flagging interface è data dall'interfaccia clonable che è definita nel package java.lang e semplicemente serve per andare a segnalare che le classi che implementano questa interfaccia possono essere copiate attributo per attributo infatti il metodo clone che si trova dentro la classe object normalmente se viene chiamato su un oggetto di una classe che non implementa questa interfaccia genera un errore altrimenti effettivamente essendo segnalato che è possibile fare la copia effettivamente genera un oggetto che è una copia puntuale di quello di partenza per convenzione quindi che cosa si fa di solito quando io dico che una classe è clonable vado a ridefinire tramite un override il metodo clone e chiamo il super clone ovvero il metodo clone dell'interfaccia della classe di base che sostanzialmente sarà object dopo aver creato una copia tale quale dell'oggetto di partenza posso eventualmente andare a modificare alcuni campi perché non è detto che io tutti i campi che ho modificato all'interno del mio o che ho duplicato a partire dal mio oggetto debbano essere mantenuti così quindi magari posso avere alcuni che voglio andare a modificare immaginiamo di avere un riferimento a un oggetto esterno magari io voglio poter andare a duplicare anche quell'oggetto non semplicemente avere il clone che punta allo stesso oggetto quindi questo è un ulteriore modo di utilizzare le interfacce per andare a flaggare alcune classi dicendo che hanno alcune proprietà e quindi potranno essere utilizzate in maniera diversa all'interno di algoritmi senza dover in alcun modo andare a impattare gli oggetti stessi aggiungendo flag o anche andando a definire nessun metodo specifico è chiaro che nel caso specifico di clonable per sapere se un oggetto è clonable oppure no avrei potuto andare a mettere un attributo oppure un metodo che dice è clonabile oppure no però questo impatterebbe tantissimo tutti gli oggetti avrei un metodo in più quindi una cosa molto più complicata invece questa interfaccia che serve come flag è molto molto più semplice e non ha un impatto alcuno su chi non la vuole utilizzare quindi con questo noi abbiamo visto una panoramica di quelli che sono i vari modi di andare a utilizzare le interfacce per risolvere diversi problemi in particolare le problematiche che abbiamo risolto sono quelle di andare a definire quella che è una interfaccia comune per tante diverse implementazioni quello che è un comportamento comune per gli oggetti che vengono utilizzati all'interno di un algoritmo quello di andare a definire degli oggetti comportamentali che permettono di parametrizzare in maniera i termini di comportamento non tanto in termini di dati degli algoritmi definiti come possiamo andare a disaccoppiare la comunicazione quando c'è un oggetto che vuole comunicare con un altro mantenendoli assolutamente separati e distinti e infine abbiamo visto come possiamo andare a utilizzare delle interfacce per andare a flaggare alcune classi a questo punto ci resta solo più da capire quali sono da un punto di vista sintattico le novità introdotte in particolare in Java 8 relativamente alle interfacce e alla loro implementazione partiamo da un esempio che abbiamo visto in precedenza allora qui troviamo un metodo che accetta un array di oggetti e un oggetto comportamentale P che implementa l'interfaccia consumer per ogni elemento O che si trova nell'array V viene chiamato il metodo accept di questo oggetto comportamentale per cui volendo stampare tutti gli elementi di un array io posso creare un oggetto printer che implementa l'interfaccia consumer che andiamo a descrivere con questa classe interna anonima se osserviamo tutto questo blocco di codice in questo riquadro inferiore possiamo osservare come in realtà l'unico frammento di codice l'unica linea veramente rilevante è quella evidenziata in colore arancione tutto il resto è sostanzialmente un contorno quello che potremmo chiamare zucchero sintattico proprio per ridurre questa ridondanza di codice in Java sono state definite quelle che si chiamano delle funzioni lambda ovvero una nuova sintassi in cui è possibile andare a indicare una funzione interna una scusate una classe interna anonima semplicemente utilizzando questo operatore freccia in cui alla sinistra specifichiamo il parametro e sulla destra andiamo a scrivere il codice che viene eseguito ovviamente le funzioni lambda possono funzionare andando a mappare un input con un output esclusivamente per le interfacce funzionali ovvero vi ricordo le interfacce che hanno un unico metodo che sostanzialmente non ha particolari side effect per cui rispetto al codice che vediamo qua noi andiamo a prendere il frammento di codice che veramente viene eseguito quindi il corpo del nostro metodo il parametro e questi sono i due elementi fondamentali che vengono messi dentro la nuova sintassi della lambda function la sintassi della lambda function prevede una struttura basata su questo operatore freccia alla cui sinistra andiamo a elencare i parametri del metodo dell'interfaccia che intendiamo implementare e alla destra della freccia andiamo a riportare quello che è il corpo del metodo i parametri potrebbero essere nessuno se abbiamo un metodo che non riceve alcun parametro e restituisce semplicemente dei valori uno possiamo averne più di uno e in questo caso sono racchiusi tra parentesi tonde separati da virgola in generale possiamo omettere i tipi se questi possono essere inferiti in maniera automatica dal compilatore oppure possiamo andare a indicare esclusivamente i nomi delle variabili per quanto riguarda il corpo del del metodo lo possiamo mettere come una semplice espressione ad esempio x più y oppure mettendo un'istruzione composta quindi racchiusa tra parentesi graffe come vi dicevo in generale i tipi dei parametri possono essere automaticamente inferiti dal compilatore in base al contesto questa inferenza automatica dei tipi è estremamente utile perché in base al contesto in cui si trova l'espressione lambda il compilatore è in grado di capire tante cose innanzitutto in base al contesto è in grado di capire qual è l'interfaccia che noi stiamo implementando quindi nel caso precedente se diciamo consumer printer uguale significa che questa espressione lambda serve per andare a descrivere una classe interna anonima che implementa l'interfaccia consumer sapendo qual è l'interfaccia che noi stiamo implementando automaticamente il compilatore sa anche quali sono i tipi di ritorno e i tipi dei parametri per cui o qui non è specificato in quanto dentro la classe consumer che è dichiarata qui o è di tipo oggetto quindi l'unico parametro del metodo che noi stiamo implementando tramite la lambda è di tipo object e il tipo di ritorno anche in questo caso è noto perché l'interfaccia consumer nell'unico suo metodo ha come valore di ritorno semplicemente void quindi tutte queste informazioni relative ai tipi sono automaticamente inferite dal compilatore e quindi non è necessario andarle a inserire ovviamente in alcuni casi è possibile inserirle comunque per andare a risolvere dell'ambiguità soprattutto se ci sono inferenze concatenate ma in generale nel caso più semplice le possiamo risparmiare avendo in questo modo la possibilità di una notazione molto compatta vi faccio un esempio tornando a un caso che abbiamo visto quando devo andare a definire un comparatore sempre nel caso della classe student che abbiamo visto nella lezione precedente io posso andare a definire un comparatore dei due oggetti student in maniera così compatta quindi a e b sono i due oggetti che rappresentano gli studenti freccia cast.id meno cast del secondo punto id questo è assolutamente equivalente alla scrittura che vediamo qua sotto quindi notiamo come esista una significativa riduzione del codice che andiamo a scrivere le funzioni lambda sono state introdotte sostanzialmente nella versione 1.8 di java ma in questa versione sono comparsi anche altre nuove notazioni sintattiche che permettono di ridurre la verbosità delle espressioni in particolare sono stati introdotti anche quelli che si chiamano dei method reference ovvero riferimenti a dei metodi che sono una rappresentazione molto più compatta ancora più compatta delle espressioni lambda per andare a descrivere delle funzioni delle classi interne anonime che implementano delle interfacce funzionali che non fanno altro che chiamare quindi rinviare la chiamata a un metodo di un altro oggetto dello stesso oggetto o di altri elementi per cui nell'esempio che avevamo visto prima in cui avevamo sostanzialmente la stampa di tutti gli elementi di un array tramite un oggetto consumer che chiamiamo printer ecco noi questo oggetto consumer lo possiamo andare a dichiarare in questo modo system.out 2.2. println questo sostanzialmente ci dice che l'implementazione con la classe interna anonima dell'interfaccia consumer e in particolare del suo metodo accept sostanzialmente consiste nell'invocazione del metodo println definito dentro l'oggetto out che sta nella classe system questo sostanzialmente è equivalente volendolo scrivere con un'espressione lambda a o freccia system.out punto println di o quindi il parametro a questo punto diventa implicito perché è l'unico parametro che viene passato al metodo println tanto per darvi la misura di quanto riduciamo la prolissità delle espressioni questo è come avremmo dovuto dichiarare l'implementazione del metodo accept dell'interfaccia consumer senza avere a disposizione né le espressioni lambda né i metodi reference quindi la riduzione la compattezza delle espressioni è estremamente significativa qual è la sintassi generale dei metodi reference i metodi reference permettono di andare a chiamare un metodo di un contenitore quindi l'elemento chiave è questo operatore due punti due punti che si trova a sinistra un contenitore il contenitore può essere un oggetto come pure una classe se facciamo riferimento a un metodo statico questo contenitore sarà una classe e non un oggetto e poi il nome del metodo a cui vogliamo fare la chiamata per cui se il contenitore è una classe ragionevolmente quello che ci troviamo a destra è un metodo statico quindi possiamo scrivere classe due punti due punti nome del metodo questo significa sostanzialmente che l'implementazione del metodo dell'interfaccia funzionale consiste in una chiamata a questo metodo e sostanzialmente i parametri del metodo sono trasferiti nei parametri del metodo dell'interfaccia funzionale sono trasferiti pari pari in parametri del metodo statico di questa classe abbiamo anche la possibilità di andare a specificare un oggetto e un nome di un metodo distanza in questo caso in maniera del tutto analoga i parametri del del metodo dell'interfaccia funzionale verranno trasferiti ai parametri di questo metodo che noi andiamo a specificare l'oggetto è un oggetto che è disponibile direttamente alla dichiarazione dell'interfaccia del nostro metodo reference quindi potrebbe essere una variabile locale potrebbe essere un parametro del metodo potrebbe essere un attributo dell'oggetto in cui si trova questa dichiarazione abbiamo anche un'altra possibilità che è quella di andare a specificare un nome di una classe e un metodo di istanza in questo caso che cosa succede che il primo dei parametri che vengono passati al metodo dell'interfaccia funzionale diventa il riferimento su cui andare a chiamare il metodo eventuali successivi parametri vengono passati a questo metodo infine possiamo anche avere un metodo reference per un costruttore in cui sostanzialmente andiamo a mettere il nome della classe due punti due punti new quindi in questo caso cos'è il risultato del metodo dell'interfaccia funzionale il nuovo oggetto creato in questo modo vediamo un po' di esempi di questi quattro casi specifici il primo caso abbiamo una chiamata a un metodo reference sostanzialmente è come una funzione infatti abbiamo una classe e un metodo statico quindi immaginiamo di avere una classe che si chiama double binary un'interfaccia che si chiama double binary operator che in effetti è definita dentro l'interfaccia java output il function che accetta due parametri di tipo double e restituisce un valore double se immaginiamo di voler andare a combinare due valori numerici attraverso un oggetto di questa interfaccia se la combinazione vogliamo che sia il calcolo del massimo tra i due possiamo dire che il double binary operator combine è uguale a math due punti due punti max questo sostanzialmente corrisponde a scrivere una lambda function del tipo ab freccia math ab i due parametri del metodo apply as double vengono sostanzialmente passati come parametri del metodo max definito dentro la classe math posso chiamare ovviamente anche un metodo di un oggetto in questo caso invece della classe andrò a specificare quello che è un oggetto vediamo questo caso particolare immaginiamo di avere a disposizione un'interfaccia che chiamiamo int to char function che ha un metodo che si chiama apply riceve un valore intero e restituisce sostanzialmente un carattere se noi abbiamo una stringa che chiamiamo xdigits possiamo andare a dire che ex implementazione anonima di questa interfaccia è sostanzialmente xdigits due punti char at cosa vuol dire vuol dire che quando chiamiamo apply di questo metodo x passeremo un valore intero quel valore intero sostanzialmente verrà girato al metodo char at della stringa xdigit cioè questa che contiene le cifre da 0 a 9 e poi abcdf quindi sostanzialmente permette di tradurre un valore tra 0 e 16 nella sua rappresentazione esadecimale per cui posso stampare ex.convert di 10 e questo sostanzialmente ci restituirà il valore di a quindi esattamente come nel caso precedente ho un oggetto che sta nello spazio accessibile alla definizione di questa classe interna anonima una variabile locale nel caso specifico e un metodo che verrà chiamato su questo oggetto i parametri del metodo apply in questo caso verranno passati tali e quali al metodo che io vado a specificare qui la terza sintassi con cui possiamo esprimere un metodo reference è quella in cui utilizziamo un nome di classe due punti due punti il nome di un metodo di istanza in questo caso ovviamente abbiamo bisogno di un oggetto su cui chiamare questo metodo questo oggetto sostanzialmente viene preso dal primo parametro del metodo dell'interfaccia funzionale che stiamo implementando nello specifico se noi abbiamo un'interfaccia funzionale string to int function che è un metodo apply che riceve un parametro string e restituisce un intero ci aspettiamo che questo primo parametro venga utilizzato per chiamare il metodo a cui facciamo riferimento per cui se scriviamo string due punti due punti length verrà chiamato il metodo length sull'oggetto passato come parametro quindi questa nostra funzione andrà a prendere la stringa che viene passata come parametro invocherà il metodo length e utilizzerà il risultato come risultato della funzione del metodo dell'interfaccia funzionale per cui se abbiamo un'interazione su un constring che stanno dentro un array che si chiama words il metodo f.apply s sostanzialmente restituisce la lunghezza delle singole parole che stanno dentro questo array in pratica è come se noi prendessimo s e utilizzassimo s per chiamare un metodo quindi questa è sostanzialmente la lambda function che equivale a questo metodo reference ultimo modo in cui possiamo andare a esprimere un metodo reference è utilizzando due punti e due punti new sostanzialmente quello che facciamo è andare a creare un oggetto della classe che specifichiamo ovviamente questo metodo reference può essere utilizzato esclusivamente andando a mappare i parametri del metodo dell'interfaccia funzionale in parametri del costruttore per cui se abbiamo come riferimento un builder che è un integer due punti due punti new il risultato è che i parametri del metodo dell'interfaccia funzionale verranno passati al costruttore di integer per cui build di uno sostanzialmente prenderà questo parametro e lo passerà come parametro del costruttore di integer sostanzialmente è come se avessimo scritto una lambda function i freccia new integer di i quindi noi possiamo utilizzare le funzioni lambda e i metodo reference per andare a scrivere in maniera molto compatta delle classi interne anonime a partire da interfacce funzionali prima di concludere la nostra panoramica sull'ereditarietà in generale alcune considerazioni pratiche sull'uso di alcuni costrutti che abbiamo visto spesso quando si tratta di andare a implementare degli oggetti o delle strutture di classi ci si pone una questione è meglio utilizzare l'ereditarietà oppure la composizione spesso possiamo andare a scegliere una piuttosto che l'altra perché con opportuni accorgimenti riusciamo a implementare le stesse funzionalità in un modo o nell'altro immaginiamo il caso in cui dobbiamo andare a implementare ad esempio il pattern observer utilizzando ereditarietà piuttosto che composizione abbiamo visto che il pattern observer nella sua descrizione nel libro della gang of four viene rappresentato come una struttura fatta da sostanzialmente quattro classi l'interfaccia observer la classe observable il soggetto che è sostanzialmente l'oggetto concreto che implementa observer e un oggetto che è l'osservatore concreto che implementa l'interfaccia observer in alternativa noi possiamo sfruttare la composizione per andare a ottenere una analoga separazione o disaccoppiamento tra oggetti diversi che devono comunicare tra di loro in particolare all'interno del nostro soggetto noi possiamo andare a inserire uno o più oggetti di classe property change support che mantengono l'elenco degli oggetti a cui notificare le variazioni a questo punto l'interfaccia property change listener è sostanzialmente analoga all'interfaccia observer per cui da questa andremo a costruire implementando questa interfaccia degli oggetti che sono gli osservatori del nostro soggetto quali sono vantaggi e svantaggi sostanzialmente quando abbiamo a che fare con l'ereditarietà la classe di base definisce una serie di metodi che poi sono tranquillamente disponibili direttamente nella classe derivata per cui gli utenti di questa classe derivata potranno chiamare direttamente questi metodi per andare a fare tutte le operazioni necessarie un esempio tipico è come faccio ad aggiungere un nuovo osservatore la classe di base observable ha un metodo che si chiama add observer che permette di aggiungere nuovi osservatori in alternativa se uso la composizione la classe non è più ereditata ma bensì ho un oggetto della classe che gestisce le notifiche al mio interno quindi se devo poter aggiungere degli osservatori non posso offrire direttamente quel metodo è necessario andare a definire un metodo per l'aggiunta degli osservatori che sostanzialmente gira quindi delega a quello contenuto l'aggiunta di nuovi osservatori per cui nella fattispecie delle due alternative nel caso utilizzi la composizione qui dovrò andare ad aggiungere un metodo add listener che richiamerà il metodo add property change listener sull'oggetto che gestisce le notifiche in pratica se utilizziamo l'ereditarietà un client andrà chiamare il metodo ad observer sul nostro subject questo sostanzialmente è un metodo ereditato dalla classe observer che possiamo chiamare direttamente poi nel momento in cui vado a definire il valore di un attributo di una proprietà dell'oggetto che deve essere poi la cui variazione deve essere poi notificata ai nostri osservatori interessati cosa succede ci sarà una chiamata al metodo set changed che sostanzialmente imposta a vero il flag che mantiene la presenza di cambiamenti e poi ci sarà una chiamata notify observer sull'oggetto stesso quindi andrò a chiamare il metodo definito nella classe di base observer il quale a sua volta andando a prendere l'elenco di tutti gli osservatori chiamerà il metodo update sul nostro osservatore interessato diverso è il caso in cui io abbia una classe contenuta perché perché innanzitutto abbiamo un oggetto in più che è quello il proprio di change support che è quello che gestisce le notifiche quindi quando vado a chiamare un metodo ad listener un metodo nuovo che ho dovuto definire io esplicitamente questo metodo rinvierà sostanzialmente l'aggiunta di un listener all'oggetto di supporto quando vado a modificare una proprietà che poi deve essere la cui modifica deve essere notificata cosa succede andrò a chiamare un metodo sul mio oggetto di supporto il quale a sua volta andrà a notificare i nostri osservatori interessati quindi abbiamo due possibili alternative che ci permettono di ottenere il disaccoppiamento tra chi manda le notifiche e chi le riceve sostanzialmente chi le manda non deve sapere nulla su chi le riceve se non che implementa un'interfaccia che può essere l'interfaccia observer in un caso oppure l'interfaccia proprio di change listener nell'altro caso quali sono le vantaggi e svantaggi delle due sostanzialmente se uso le retarietà io mi ritrovo tutti i metodi già pronti non devo andare a fare sostanzialmente nulla la gestione degli eventi è fatta tutta lì add observer set change notify observer sono tutti già compresi e ereditati dalla classe di base se utilizzo una composizione devo andare ad aggiungere ad esempio un metodo listener e devo ricordarmi di andare a chiamare metodi dell'oggetto di supporto per fare tutte le notifiche tuttavia questa seconda soluzione ha un grosso vantaggio io posso avere tanti oggetti di supporto che vanno a notificare sotto insiemi diversi di osservatori mentre invece nel caso in cui abbia la classe observable io ho un unico insieme di osservatori quindi la notifica viene mandata per qualunque tipo di variazione c'è nel nostro oggetto che vogliamo tenere sott'occhio invece in quest'altro caso io posso avere diversi meccanismi che mi permettono di andare a gestire le notifiche un'altra osservazione che dobbiamo fare rispetto ai metodi che abbiamo visto prima è come possiamo andare a implementare la variabilità all'interno di algoritmi abbiamo visto che ci sono due alternative uno è quello di utilizzare un idioma che abbiamo chiamato common behavior quindi comportamento comune in questo caso la variabilità è sostanzialmente legata agli oggetti che vado ad utilizzare sostanzialmente è quello che abbiamo visto con l'interfaccia comparable e il metodo compare to in questo caso quando io chiamo ad esempio un ordinamento l'ordinamento è implicito nel tipo di oggetti che sto ordinando ovviamente questo è un po' meno flessibile perché il metodo è uno e quindi io avrò un unico possibile tipo di ordinamento dato un oggetto che voglio ordinare o un insieme di oggetti che voglio ordinare lo strategy pattern è un po' diverso e sostanzialmente lega la variabilità nel nostro algoritmo non agli oggetti che vado a processare ma bensì a oggetti comportamentali che io passo quando è necessario in questo caso il tipo di comportamento dell'algoritmo non è legato agli oggetti che sta manipolando ma bensì è legato all'oggetto che passo e questo lo passo in maniera esplicita quindi vedo chiaramente qual è il comportamento che passo perché è un parametro in più che viene messo nell'elenco di parametri del nostro algoritmo e quindi sostanzialmente questo è un approccio un po' più flessibile vediamo un po' più nel dettaglio cosa significa in termini di ordinamento se io ho una classe student che sostanzialmente va a confrontare i miei studenti sulla base della loro matricola quando faccio una resource student qui è implicito che l'ordinamento venga fatto tramite il metodo compareTo infatti questo è quello che normalmente si chiama l'ordinamento naturale l'altra possibilità è quella di andare a chiamare il metodo sort passando un comparatore il comparatore in questo caso definiamo con questa lambda function può essere uguale identico a quello precedente quindi sostanzialmente ordina in base a i nostri identificatori oppure come in questo caso scambiando b e a sostanzialmente ordina i nostri studenti in ordine inverso quindi in questo caso abbiamo l'ordinamento naturale implicito definito dal metodo compareTo dell'interfaccia comparable in questo caso abbiamo un ordinamento esplicito che è definito da una strategia implementata tramite un oggetto comparatore quindi sta a noi andare a scegliere quale tipo di ordinamento vogliamo fare sui nostri oggetti in generale è buona norma avere un tipo di ordinamento predefinito che è quello che chiamiamo per l'appunto naturale e all'occorrenza possiamo andare a definire degli ordinamenti di tipo diverso variabili tramite dei comparatori specifici in cui dichiariamo esplicitamente il criterio con cui andare a ordinare i nostri elementi direi che con questo abbiamo concluso quella che è la panoramica sull'ereditarietà in Java abbiamo visto come possiamo definire l'ereditarietà quale è la sintassi la possibilità di avere i cast tra oggetti cosa significa upcast e downcast e soprattutto quali sono safe o unsafe abbiamo visto la presenza di una classe di base per tutti gli oggetti che è la classe object abbiamo visto come possiamo utilizzare dei metodi astratti che quindi ci permettono di avere delle classi astratte e come l'evoluzione delle classi astratte sia le interfacce e infine abbiamo visto diverse tipologie di uso delle interfacce e come nell'ultima versione del linguaggio Java una delle ultime versioni la 1.8 siano state introdotte una serie di sintassi che ci permettono di scrivere delle classi interne anonime in maniera molto più compatta rispetto a quanto era possibile fare in precedenza di scrivere di scrivere l'anime di scrivere di scrivere